Up è la storia di Carl Fredrickson che parte per un'avventura da sempre sognata. La storia è ricca di colpi di scena. Volevamo che succedessero molte cose a Carl durante la sua avventura. Che cos'hai qualcosa? Kevin è una creatura fantastica, l'antagonista perfetto di Carl. Quello che riempie di sorprese il suo viaggio. Ciò, fatele via! Avanti, sparisci! Sfortunatamente per Carl c'è qualcun altro che verrà in viaggio con lui. Russell. Salve, signor Fredrickson! Un esploratore della natura di otto anni. Wow, sta facendo un viaggio! Il viaggio incontra mille difficoltà e questo è parte del divertimento. Vede? Cumulo Nandy! L'ostacolo successivo che Carl dovrà affrontare sarà il volatile. Allora, ti sparisci! Kevin, va tutto bene? Kevin? Sì, è il suo nome, gliel'ho dato io. Kevin è questo goffo strambo personaggio. Chi ti ha dato il permesso? Non sai mai cosa stia per fare. In questo viaggio direi che niente è più diverso da Carl di questo uccello, grande e goffo. Non ti voglio qui e non ci voglio nemmeno te! Ci piace il modo in cui si muovono gli uccelli. Hanno davvero un umorismo innato. Attento, Russell! Le proprie a causa di Kevin finiscono in questo grande intrigo. Lo fermerò! Kevin! Ehi, è questo l'uccello! E il viaggio che intraprendono diventa questo grande film d'avventura. C'è molto umorismo. No, ti ho detto di no! E' teo! Avventura e qualche personaggio fuori dal comune. Questa è una delle cose che lo rende unico. Il film viaggia in diverse direzioni, mostrando cose che non avete mai visto prima. Ehi, quello è mio! E per questo è divertente. Il film viaggia in diverse direzioni, mostrando cose che non avete mai visto prima.